Sarà a Natale da trascorrere in maniche di camicia in Sicilia. L'alta pressione domina su gran parte dell'Europa e della nostra penisola, facendo registrare deboli piogge al nord e temperature sopra la media sulle regioni meridionali. Fino all'inizio del nuovo anno, l'area mite, quasi primaverile, accompagnerà le giornate di festa, un cambiamento atteso nel corso dei primi giorni di gennaio tra Capodanno e la Befana, con la possibilità del ritorno delle perturbazioni atlantiche che porteranno neve sulle Alpi e pioggia in pianura. Secondo il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, il giorno della vigilia il termometro salirà fino a 11 gradi a Enna, 14 a Ragusa e segnerà 16 gradi a Catania, Messina, Palermo e Siracusa. Il sole farà compagnia a chi deciderà di approfittare delle belle giornate festive per una passeggiata in riva al mare o sull'Etna. C'è l'azzurro anche su Alpi e Dolomiti, dove in questi giorni si allenano gli atleti del vulcano Ski Race di Catania, preparati da Giacomo Perni. Ciao a tutti, mi trovo qua in cima alla cabinomia dello Spinale, Madonna di Campiglio, davanti allo Sciale Fiat. Sono qui per fare allenamento con i ragazzi del mio Ski Club e la Vulcano Ski Race Team per una settimana, ma la situazione neve non è tanto diversa da quella che c'è nel resto d'Italia.